Durante controlli effettuati domenica dalla polizia, che hanno portato gli operatori ad elevare diverse sanzioni amministrative, emergono anche situazioni paradossali. Nel pomeriggio un uomo di 43 anni italiano ha dichiarato nell'autocertificazione di essere uscito per andare a comprare la cannabis light perché disinfetta i polmoni. Per lui la sanzione è stata maggiorata in quanto era a bordo di auto. Gli agenti infatti non hanno ritenuto la giustificazione un valido motivo di salute. Sempre nel pomeriggio la volante è intervenuta per una lite fra condomini. Gli inquilini del piano di sotto hanno sbattuto le scope contro il soffitto per protestare contro i rumori provenienti dal piano di sopra. Uno degli inquilini dell'appartamento soprastante è sceso giù per chiedere conto e ragione del comportamento e ne è nato un alterco che si è risolto solo con l'arrivo della volante. Durante le fasi di identificazione però è emerso che l'uomo che era sceso giù per chiarire con i vicini non abitava lì ma si era recato a casa dei propri parenti per il pranzo domenicale quindi è stato multato. Nella notte infine la volante ha fermato una macchina con tre cittadini marocchini a bordo sui 30 anni due residenti a Lucca e uno a Capannuri che hanno dichiarato di essere in giro per comprare le sigarette il che non rappresentava un valido motivo di necessità soprattutto andando in giro insieme di notte per tutti e tre sanzione maggiorata perché a bordo di auto.